La Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per sequestro di persona in eflitta in corte d'appello a carico dell'agrigentino Mario Musotto e poi due anni sconterà Alfredo Silvano e un anno e sei mesi e la moglie di lui, Daniela Todaro. Mario Musotto, regista di film sulla lotta alla mafia, ha indotto il socio nell'attività Vincenzo Balli e la moglie del socio, Patrizia Trovato, a credere di essere nel mirino davvero della mafia e di conseguenza si adoperò per blindarli con tanto di programma di protezione. Ecco il perché del sequestro di persona che si è protratto dal 2004 al 2006 tra intimidazioni, minacce, movimenti strumentalmente sospetti e trasferimenti in località segrete. Il tutto affinché i due credessero davvero di essere inseguiti dalla mano omicida della mafia. Poi Balli si è imbattuto fortuitamente in un carabiniere vero e non il falso che ha firmato delle mail di comunicazioni investigative e la messa in scena è stata smascherata. Il regista Musotto ha ammesso di aver organizzato tutto ciò ma in accordo con Vincenzo Balli per sfuggire ai creditori e alle difficoltà finanziarie della società. Tale versione non è stata ritenuta credibile e la Cassazione come richiesto dai difensori di Balli è trovato, ha giudicato non ammissibile il ricorso dell'imputato.